Bentornati ragazzi, continuiamo a parlare dell'antico Egitto parlando questa volta della lunga storia dell'Egitto perché come sapete in Egitto ci fu un unico popolo, gli Egizi, a differenza della Mesopotamia in cui si succedettero vari popoli un unico popolo è una lunga storia, una lunga storia fatta di dinastie di faraoni che si succedevano di padre in figlio sapete che la dinastia è quando il potere appunto si trasmette all'interno della stessa famiglia di padre in figlio allora l'Egitto voi sapete che è caratterizzato dal corso del Nilo il corso del Nilo che parte dal basso e arriva fino al delta in cui il Nilo sfocia nel mare mediterraneo proprio per questo motivo l'Egitto si divide in basso Egitto e alto Egitto Alto Egitto sarebbe la parte che noi vediamo almeno dall'immagine più in basso la parte dove inizia il corso del Nilo la zona abitata soprattutto nell'antico Egitto da contadini che appunto coltivavano la terra qui ci fu la capitale Tebe e anche la valle del Re ora comunque lo vediamo mentre il basso Egitto è la parte più alta la parte che corrisponde con il delta del Nilo vedete questa foce qui a delta greco il punto in cui poi il Nilo sfocia nel mare mediterraneo e questa era una zona dove ci fu l'antica capitale Menfi e dove troviamo le piramidi di Cheope, Chefrene e Micelino e anche la scultura della Spinge questa era una zona abitata anche da contadini però abitata anche da mercanti e artigiani perché ora lo vedremo gli egizi praticarono anche dei traffici commerciali molto intensi quindi noi sappiamo che la civiltà egizia inizia tra il 3005 e il 3000 a.C. ancora in questo periodo le due zone erano divise in due regni separati il regno dell'Alto Egitto e il regno del Basso Egitto fu proprio il faraone Narmer nel 3100 siamo nel periodo protodinastico che va dal 3150 al 2657 a.C. fu proprio il faraone Narmer nel 3100 a unificare Alto e Basso Egitto e quindi a creare un unico regno un unico regno che si mantiene così per circa 3 millenni questo è il periodo protodinastico tra l'altro poi figlio di Narmer, Menes fonderà la capitale che appunto sarà Menfi bene, andiamo a vedere le altre epoche allora, la storia dell'Egitto si può dividere in antico regno, medio regno, nuovo regno e poi l'epoca tarda allora, l'antico regno va dal 2657 al 2166 a.C. circa e ha inchiesto un periodo molto splendido pensate che è il periodo in cui avviene la costruzione delle piramidi di Cheofren e Micerino che sono tre faraoni va bene, sapete che le piramidi erano proprio la loro tomba e anche la costruzione della scultura della Spinge se noi rivediamo là, ecco vediamo che si trovano nel basso Egitto vicino Menfi che era proprio la capitale ritorniamo alla slide di prima allora, il medio regno dal 2120 al 1976 a.C. come vedete tra questi periodi ci sono dei periodi intermedi va bene allora anche questo è un periodo molto splendido perché l'Egitto conquista la Siria la Palestina il Libano e la Nubia che si trovava a sud dell'Egitto e che era ricca di miniere d'oro è un periodo di grande fioritura culturale è un periodo di intensi traffici commerciali gli Egizi trafficano armi gioielli oro avorio pelli e animali che diciamo venivano importati da Oriente e da Occidente e la capitale Tebe allora adesso la capitale viene trasferita da Menfi a Tebe Tebe si trova nel basso Egitto la capitale Tebe diventa un grande centro culturale e commerciale passiamo al anche qui c'è un periodo intermedio e passiamo al nuovo regno che va dal 1540 al 1292 avanti Cristo e questo è un periodo in cui Tebe la capitale dell'Egitto diventa veramente un centro culturale vediamo un'altra slide ecco qua all'inizio del nuovo regno gli scambi commerciali si fanno più intensi e Tebe la capitale diventa una città molto ricca questo è il periodo in cui i faraoni non si fanno più costruire le piramidi sappiamo che le piramidi erano le tombe dei faraoni i faraoni non si fanno più costruire le piramidi e preferiscono costruire tombe scavate nella roccia in una valle vicino a Tebe appunto la valle del re qui vediamo un'immagine di queste tombe anch'esse splendide come le piramidi di Cheope Chefren e Micerino ritorniamo indietro allora il periodo del nuovo regno è un periodo in cui il faraone cerca di rafforzare il suo potere abbiamo un faraone che verrà chiamato Achenaton che vuole imporre un culto monotecnico sapete che la religione egizia era politeista ora questo faraone vuole imporre invece il culto di un solo dio del dio Aton e infatti proprio per questo viene chiamato Achenaton scusatemi naturalmente tutto questo avviene a svantaggio dei sacerdoti perché è un modo per il faraone di accentrare tutto il potere nelle sue mani e di lasciare diciamo al margine i sacerdoti per cui i sacerdoti si oppongono a questa riforma monoteista di Achenaton che capite visto che lui è il figlio del dio Aton vuole affermare anche un potere teocratico cioè un potere incentrato sulla sua persona i sacerdoti si oppongono e quando Achenaton muore poi il figlio Tutankamon diciamo ripristina l'antica religione politeista e quindi questa riforma di Achenaton non riesce arriviamo all'epoca tarda la chiamiamo così diciamo per comodità che va dal 1292 fino al 332 che è l'anno in cui l'Egitto verrà conquistato da Alessandro il Macedone o Alessandro Magno allora nel primo periodo periodo del 1292 abbiamo come faraoni i Ramses per cui si inaugura la dinastia dei Ramessidi con Ramses primo e poi Ramses secondo che è proprio il faraone che combatte contro gli Ittiti a Kadesh nel 1284 avanti Cristo è il periodo più splendido del nuovo regno infatti Ramses tornerà da questa battaglia come vincitore verrà celebrato dal suo popolo come vincitore invece come sappiamo dopo diciamo l'acme dello splendore arriva la decadenza infatti intorno al 1200 avanti Cristo arrivano in Egitto i popoli del mare sappiamo poco di questi popoli del mare probabilmente erano un popolo indoeuropeo proveniente da nord i popoli del mare arrivano in Egitto e lo diciamo cioè creano disordini lo destabilizzano per cui da questo momento inizia la decadenza dell'Egitto quindi allora andiamo ancora avanti abbiamo detto dal 1200 in poi inizia la decadenza dell'Egitto infatti poi l'Egitto cadrà nelle mani di popoli stranieri per esempio nel VII secolo l'Egitto cade nelle mani degli assiri poi nel 525 verrà conquistato dai persiani fino ad arrivare e sarà sotto il dominio persiano va bene per molti secoli fino ad arrivare al 332 avanti Cristo quando in Egitto arriva Alessandro Magno e quindi l'Egitto diventerà diventerà un regno ellenistico e sarà un regno ellenistico fino al 31 avanti Cristo quando l'Egitto verrà conquistato da Ottaviano Augusto che combatte contro Cleopatra che è l'ultima regina dell'Egitto contro Marco Antonio che era il suo amante l'Egitto verrà conquistato da Ottaviano Augusto e diventerà una provincia romana e qui finisce la storia gloriosa dell'antico Egitto Cleopatra è l'ultima regina di questa lunga storia